Palazzolo Acredi, l'area archeologica di Acrae riapre magicamente al pubblico. Al via la riapertura dell'area archeologica di Acrae a Palazzolo Acredi, da tre mesi dalla chiusura e dopo il grande flusso di pubblico riscontrato nell'area monumentale della Neapolis, il Parco archeologico di Siracusa e l'Oro e Villa del Tellaro riapre sabato 13 un altro luogo di grande suggestione. Acrae con il suo teatro e le numerose testimonianze della storia dell'antica Palazzolo Acredi. Rispettando le misure sanitarie anti-Covid bisognerà effettuare obbligatoriamente la prenotazione tramite un'app uline.eu La cultura riparte, verificando così la disponibilità nel giorno e nella fascia oraria prescelta, tenuto conto che gli ingressi saranno contingentati ogni 45 minuti. Non sarà consentito, per ragioni di sicurezza e per mantenere il distanziamento, l'ingresso a coloro che non avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione online. La visita avverrà secondo il senso di percorso stabilito sui luoghi della segnaletica orizzontale e verticale al fine di evitare interferenze tra i visitatori. Come promesso, anche l'area di Acrae riapre al pubblico, afferma Rita Insolia, direttrice ad Interim del Parco, nel rispetto di tutte le regole anti-contagio. Grazie alla collaborazione del Comune di Palazzo Lacrede e al dialogo costruttivo con il Sindaco Salvatore Gallo e l'Assessore Maurizio Aiello, siamo riusciti a completare in breve tempo le operazioni di diserbo e di individuazione dei nuovi percorsi. L'apertura al pubblico da lunedì a domenica, compresi festivi e infrasettimanali, sarà consentita a gruppi di massimo 15 persone, con orario continuato dalle 8.30 fino alle 20, con ultimo ingresso alle 18.30. Il costo di 4 euro per il biglietto intero, 2 euro il ridotto.